Non è importante solo la percentuale che si fa, è importante anche la percentuale che si fa in base al rischio che si va a correre. Questo è fondamentale, perché io posso decidere di fare l'1% mese rischiando poco e nulla, oppure posso fare il 5% mese rischiando ogni volta tutto il capitale. Fate attenzione quando vedete in giro, ho fatto il 5% in un mese, sì è possibile fare il 5% in un mese, ma la domanda è quanta hai rischiato? L'ulteriore parametro è il capitale, perché ovviamente io posso fare il 100% con 1000 dollari, ma è diverso fare il 100% con 1000 dollari, con 100.000 dollari, con 1 milione di dollari, con 100 milioni di dollari. È vero, è sempre il 100%, ma cambia tutto, a livello psicologico, a livello di entrata nel mercato, a livello di gestione, cambia tutto. Grazie a tutti.